Ciao, come ti chiami? Serena È la prima volta che vieni in mostra? No, è la seconda e ho portato anche un'amica, l'ho consigliata insomma, quindi già... Ottimo, espandiamo le persone nella coniglia. Cosa ti è piaciuto di più della mostra? Allora, sicuramente il fatto che sia immersiva ai 360 gradi, molto spesso le mostre si limitano ad esporre oggetti, foto, video, eccetera, mentre invece qui è curata veramente nei minimi dettagli, dall'audio che c'è in quasi tutte le sale, al fatto che è stato scelto questo spazio espositivo all'ultimo piano della villa che ha fatto tutto in legno e mattoni, quindi anche questo crea proprio un'atmosfera incredibile, davvero, sia per chi è appassionato di queste cose, sia per chi viene qui con curiosità, sia per chi pratica, insomma, è davvero un'esperienza per tutti. Perciò ci vediamo una terza volta? Sicuramente! Ok, grazie mille! Grazie a voi!